Vado di Buonaventura, sui fondi messi a disposizione per gli asfalti attacca anche il Movimento 5 Stelle, chiariamo innanzitutto l'importo esatto messo a disposizione, cioè quello che già avete. Ma guarda, è diventata quasi una moda adesso, sembra quasi che qualcuno sia dispiaciuto che noi portiamo avanti politiche di rifacimento del mando degli asfalti che è urgente e necessario. L'importo per termocittà è di 800 mila euro, come avevamo detto, se poi se uno va a far spulciare, se si toglie l'iva, gli oneri per la sicurezza e quant'altro, alla fine l'importo è 575, ma di fatti l'importo appaltato è di 800 mila. Tenga conto che ci saranno offerti, sicuramente saranno dei ribassi e quindi andremo a fare quei chilometraggi previsti dal piano asfalti che per la prima volta è stato fatto in maniera molto dettagliata, in maniera... non faremo toppe come qualcuno ha scritte perché faremo dei tratti, ovviamente rifare, immaginare di riasfaltare tutto via, poi significa che ci vogliono un milione di euro, però faremo dei tratti, taglieremo dei tratti dove si stanno determinando situazioni di grave pericolosità, ma non faremo toppe, faremo dei tratti tagliati, quindi 50-100 metri, nei punti più necessari. Ovviamente per fare un piano asfalti serio veramente efficiente, efficace, ci vorrebbero un milione di euro. Cerchiamo di dare risposte alle priorità. Per quanto riguarda le frazioni, sa benissimo quel secondo lotto che era messo anche nel bilancio di 500 mila euro, quelle somme come devoluzione dei mutui, la Regione non ci ha autorizzato, però li andremo a usare, a investire per la messa in sicurezza delle scuole come ci ha autorizzato la Regione. Però l'amministrazione ha preso un impegno, cercato di portarli in fondo e di dare una risposta anche alle frazioni. Quindi quelle 500 mila euro per le frazioni, in un modo o l'altro, saranno recuperate in qualche modo e quindi cercheremo di mantenere fede al nostro impegno senza contrarre muri e quindi con mille difficoltà, ma c'è l'impegno serio e attento all'amministrazione a dare delle piccole risposte in ogni zona del territorio comunale. Quindi nel bilancio previsionale comunque è prevista un'ulteriore spesa per gli asfalti, serve soltanto reperire la somma in qualche modo. Intanto 800 mila euro ci sono e comunque i vati o meno, l'importante è partire. Ma sì, l'importante è partire con quelle somme, ripeto, somme diciamo ridotte, ma comunque andremo a dare una risposta alle situazioni emergenziali, essenziali, quali via Le Crucioli, Due Pondi, via Le Cavour, via Del Castello, via Urbani, ma ce ne sono tante di situazioni. Abbiamo cercato di dare risposte al centro storico, tutto il centro storico, sarà interessato all'arrificimento degli asfalti. Quindi facciamo del nostro meglio, con il massimo impegno, sappiamo benissimo le difficoltà che ci sono, lo sanno tutti a livello economico, non solo per il comunitario, ma per tutti i comuni. Cerchiamo di dare delle priorità. Il piano asfalto è stato fatto in maniera minuziosa, quindi sono sicuro, purtroppo i tempi sa benissimo che con la sblocca canglieri, di fatti si sono modificate le norme sugli appalti, quindi abbiamo dovuto ripresentare, mettere in avviso il bando di gara due volte e questa comportata dei ritardi per quanto riguarda Termo. Speriamo di accelerare i tempi per mettere in campo anche gli altri avvisi di gara per quanto riguarda le frazioni. Quindi c'è l'impegno massimo, speriamo di mantenere l'impegno preso con i cittadini, non solo di Termo, ma anche delle frazioni, di dare piccole risposte per quello che c'è possibile, con le somme che riusciremo a reperire, ma io sono convinto che a quello milione e tre in qualche modo riusciremo ad arrivarci.